buongiorno a tutti allora magliettina 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 della felicità il rituale della felicità felicità vi faccio vedere anche un po di scrittine ma lo trovate tranquillamente su internet mettete il rituale della felicità vi appare la fotografia bene 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 tre news prima di fare le schedine e bollettine del gigione tre news allora 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 questo è importante perché questa sera questa sera a Como c'è questo spettacolone quindi magari ci sono ancora dei biglietti disponibili non lo so comunque al festival Como città della musica organizzato dal teatro sociale di Como oggi 14 luglio alle ore 21 e 30 è la volta di oblivion summer show uno spettacolo degli oblivion gruppo comico che ama giocare con la musica e il teatro e che farà passare agli spettatori una divertentissima serata in musica gli oblivion sono un gruppo bolognese già ospiti qualche anno fa al teatro sociale di Como specializzato in parodie dei classici della letteratura diventati noti al grande pubblico grazie ai loro video su youtube i promessi sposi in dieci minuti dopo diversi spettacoli teatrali in cui giocavano con la letteratura decidono di orientarsi sulla musica e diventano così i cinque sensi della satira musicale i cinque continenti della parodia i cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi li hanno definiti atomizzatori di repertori musicali pusher di pillole caricatoriali ma anche meravigliosamente superflui come le piramidi sono uno spotify vivente che mastica le note e le digerisce in diretta dei modi mai sentiti prima uno gm che spazia tra genio e follia giocoleria e cabaret intratetimento leggero e profonda demenzialità questo è oblivion summer show lo spettacolo sarà una travolgente partita musicale a tutto campo che i cinque artisti affrontano con totale naturalezza ma nella quale gli spettatori correranno il rischio di essere travolti dalle risate assistere ai loro show è un'esperienza folle e irripetibile che provoca risate scomposte isteria collettiva ma soprattutto interminabili richieste di bis quindi chi ha come in quelle zone lì guarda magari su internet oblivion spettacolo ticket se magari ce ne sono ancora la vedo dura però era per informarvi purtroppo l'ho visto troppo tardi però c'è ancora tempo tutti avranno visto mamma ho perso l'aereo stavolta ha perso il camper perché questa è una notizia bella fresca bella fresca di qualche giorno fa mamma e papà partono per le vacanze una al volante dell'auto e l'altro del camper e dimenticano a casa il figlio di sette anni mamma ho perso il camper è accaduto sabato mattina in zona san ruffillo a bologna il bambino che piangeva in strada è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri rintracciata la madre italiana quarantenne come il padre è stato ricostruito l'accaduto il bambino doveva salire a bordo del camper con il papà ma non volendo viaggiare sul mezzo è stato fatto scendere per raggiungere la madre la donna che alla guida dell'auto però era già partita da qualche minuto contattati dai carabinieri i genitori sono subito tornati indietro a recuperare il bambino l'episodio è stato segnalato alla procura per i minorenni adesso state a vedere che li mandano a bibbiano comandano a bibbiano avete lasciato il figlio a casa genitori degeneri a bibbiano siamo perdere sorvogliamo è meglio e questa invece è una notizia molto lunga che interesserà chi è in vacanza o andrà in vacanza a forte dei marmi è un po lunga ma ci sono un po di notizioni interessanti perché andrà in vacanza appunto in versiglia è ufficialmente iniziato il tempo delle vacanze estive molti di voi avranno sicuramente già prenotato una settimana o più nella meta favorita o è nelle imminente intenzioni di farlo per fuggire dal caldo cittadino e per staccare la spina da lavoro e routine quotidiana quindi parliamo di un bel posticino come la mitica forte dei marmi la meta del jazz set italiano per antonomasia portata alla ribalta negli anni 80 dal film sapore di mare con protagonisti jerry calà e christian de sicca e non solo ma la cittadina di punta della versiglia non è solo sinonimo di divertimento e spensieratezza resa attrattiva internazionale anche grazie alla celeberrima discoteca la capannina famosa per le sue spiagge immense con capanne talmente ampie da ospitare lettini grandi e confortevoli a prova di relax forte denna marmi e sinonimo di stile rilassato e chic in puro spirito dolce vita addirittura susanna agnelli nel 1975 dedicò a questa meta il suo libro vestivamo alla marinara l'opera autobiografica in cui racconta la sua infanzia e gli stati passati a forte dei marmi dove si atteneva in spiaggia nei locali alla moda sono di abiti ampi e maglie in cashmere moda che si è con il tempo adeguata alle tendenze attuali come dimostra spesso chiaro ferragni che passa i suoi weekend con la famiglia a forte dei marmi l'influenza ci insegna che per assomigliare a un local della versiglia basta combinare un paio di shirts a una camicia bianca lasciata aperta sopra il costume è un paio di ciabattine pratiche per sfrecciare dalla spiaggia a casa in bicicletta sulle ceriberime piste ciclabili che collegano forte a pietra santa e paesini limitrofi forte dei marmi durante la pandemia si è anche trasformata in punto di ritrovo per i surfisti alle prime armi certo il mare della versiglia non vanterà da onde del calibro di portogallo e california ma la sua corrente gentile vicino al puntile è un ottimo inizio per chi desidera prendere confidenza con la tavola da surf e chi pratica questo sport ama indossare look rilassati abbinando collane iper colorate trichini e shorts indemni ai classici must have di forte come per esempio gli abiti ampi fino a ciabattine pelose e maglie in cashmere impalpabili che si possono acquistare anche pensando già all'autunno quindi perché non replicare questo stile anche in città una volta rientrate dal weekend di relax perdersi infatti per le vie di forte di marmi o tra i banchi del mercato del mercoledì e della domenica vi farà venire voglia di vestire locale e di tornare anzi local e di tornare a casa con un chino mono in cotone di seta un paio di ciabattine handmade o una borsa per il mare in stile versigliano tra gli appuntamenti imperdibili di questo weekend al mercato di forte dei marmi in piazza guglielmo marconi segnati in agenda domenica e purtroppo se n'è andato era lo scorso weekend perché c'è il van di shaft jeans ma purtroppo l'hanno già fatto siamo arrivati un po ritardo però possiamo lo stesso parlare del van di shaft jeans se è vero che è un ottimo modo per conoscere bene un luogo e anche andare per boutique locali questi nostri suggerimenti vi trasformeranno in bere local di forte dei marmi ora non vi resta che scoprire i dieci brand realizzati e venduti esclusivamente nelle boutique della cittadina che vi raccontiamo nella galleria di sotto cominciamo appunto con il van di allora con love's acqua love's acqua il brand nato a tiene ha inaugurato il suo primo store a forte dei marmi nel 2021 per tutta la stagione estiva di quest'anno ha brandizzato il bagno alpe mare di proprietà della famiglia bocelli insieme ad acqua di palma con il brand olfattivo ha anche creato una capsule collection dedicata che è possibile acquistare proprio nel negozio di piazza tonini 13 al forte mettete un po di seta di azzurro acqua marina di stampa farfalle nei vostri guardarobe estivi quindi love's acqua di parma in via in piazza tonini 13 a forte dei marmi poi c'è tra gli accessori più amati dalle locali di forte dei marmi c'è proprio una borsa capiente meglio se in juta naturale quindi c'è innovazione versiglia tra gli accessori appunto diceva una bag estiva dove poter mettere tutto il necessario da spiaggia che le abitanti del forte acquistano nello storico negozio di biancheria per la casa in via carducci al 9 poi per chi ama il cashmere un bel maglione in cashmere è tra gli acquisti da non poter non fare a forte dei marmi anche in estate pensando già all'autunno se non si riesce a passare dal mercato di forte dei marmi il negozio di pinotti in piazza marconi 89 e lamenta dove andare la sua storia inizia nel 1963 e oggi alla sua terza generazione di artigiani qui la felpa con cappuccio in cashmere è immancabile nel guardaroba dei local di forte sembra una moda un po stramba quella di sfoggiare ai piedi flip flop pelose eppure a forte dei marmi non puoi non acquistare almeno acquistarne almeno un paio le originali sono del brand specializzato in capi accessori in pelliccia che dal 1984 lavora nell'alta moda made in italy e che ogni domenica presenzia al celebre mercatino di forte dei marmi oltre ad avere una boutique al civico 14 di via giuseppe spinetti il negozio più glam di forte dei marmi che nasce quasi per gioco vent'anni fa dall'idea delle amiche che si chiama cose cose con la cappa come dicevamo è nato dalla mia dall'idea delle amiche stefania e michela e ha l'obiettivo di offrire una selezione di capi accessori unici che non si possono trovare altrove non fatevi però ingannare dal nome la selezione shopping non è tutta rosa anzi a spiccare ci sono vestiti per la spiaggia talmente chic che si possono indossare fino al crepuscolo e capi ricamati e dipinti a mano proprio con le icone della versiglia questo brand nato in vestiglia la terza generazione di commercianti dal della famiglia fioroni quindi questa è un'altra cosa è cose cose a forte e poi c'è il brand quello nuovo della famiglia fioroni e nasce nel 2013 come boutique itinerante nel mercato di forte dei marmi ogni prodotto è a tiratura limitata perché è realizzato a mano e per questo è consigliato arrivare la mattina presto al mercato per vedere l'intera collezione creata durante la settimana immancabile tra i sumerir della vostra vacanza forte è una collanina da solfiste decorata con perline haishi in pasta polimerica e con nappa finale che si può indossare con il doppio giro con il nodo al collo poi c'è un altro bel negozietto che si trova in via san marco 1 era presente una vera fashion destination qui si trova una selezione dei marchi più glamour del momento oltre a prodotti realizzati dal brand stesso come le ciabattine handmade con incroce in trecci tempestate di strass il corner della maison invece nel negozio di punta per le fan delle griff a forte dei marmi fiacchini al 16 di via 4 novembre e inno alla vita da spiaggia qui in esclusiva sono inventite capi di oriviera le capsule la capsule disegnata dal direttore creativo del marchio marchio scusate del marco del marchio maria grazia chiuri ideata con l'obiettivo di dare spensieratezze in estate con stampe iconiche e top mariniere con i nomi delle destinazioni da sogno infine ma non no non è infine perché c'è ancora no si siamo infine eleganza e sensualità espressi attraverso il fluido mescolarsi nel pizzo della seta dal pizzo alla seta quindi c'è pizzo seta c'è di tutto sono gli ingredienti alla base del negozio al civico 9 di via stagi l'obiettivo del marchio è disertare le forme femminili e enfatizzandole con sottovesti e capi spalla naturalmente in cashmere però quello leggero senza vincoli sugli abbinamenti qui uno dei capi più amati e sfoggiati al forte è il ponche lungo con bordo in pizzo e infine è impossibile essere a forte dei marmi e non cedere a una calzatura di volponi il marchio creato negli anni 70 da mauro volponi scomparso ahimè nel 2019 nella sua rinomata boutique in via 4 novembre 9 è possibile fare incetta di scarpe di ogni tipo dalle sneaker ai camperos fino ai capi spalla e borse bene ragazzoli vi ho dato un po di consiglietti se andate a forte di dove andare a curiosare ogni domenica c'è il mercatino quindi potete andare anche come dicevamo prima al van shaft perché c'è anche quello il van di shaft jeans il brand di denim nato alla fine degli anni 60 perché comunque c'è sempre il mercato quindi presumo che anche prossima domenica ci sarà al mercato quindi potete andare a curiosare lo stesso e c'è anche il brand di shaft jeans c'è stato il 10 ma magari anche il 17 vi può regalare gioie quindi per chi è fortunato che andrà forte un girettino per le vie andare a vedere tutti questi negozi vi ho dato gli indirizzi guardate su internet vi fate l'itinerario prima o se no al 17 andate direttamente al mercato e gironzolate tra nel mercatino a vedere cosa c'è di bello di interessante eccetera naturalmente per chi va a forte se non andate a forte nothing detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio stasera fai lo spettacolo dell'oblivion da libidine per chi riesce ancora a prendere dei biglietti se no pensate ci guardate perché probabilmente saranno in tour e magari verranno dalle vostre parti può essere un'idea andare a vedere gli oblivion e ci vediamo alla prossima e mi raccomando non lasciate a casa i bambini non abbandonate gli animali ma non lasciate neanche a casa i bambini ciao